buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 11 luglio 2023 è una giornata assolata una giornata prettamente estiva con un grande desiderio di vacanze comunque noi iniziamo la nostra trasmissione con l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia un grande santo un santo che è il patrono d'europa pensate un santo che viene venerato e festeggiato e ne tutta l'unione europea san benedetto da norcia visse tra il quinto e il sesto secolo padre del monachesimo occidentale studiò a roma da giovane poi preferì ritirarsi nell'eremo di subiaco quindi difondendo la sua santità fu presto raggiunto da altri religiosi via via benedetto fondò pensate 12 monasteri poi si stabilì a monte cassino dove fondò la celebre abbazia la sua regola ora et lavora si diffuse in tutta europa e rimane ancora oggi un caposaldo della regola monastica appunto poi è stato proclamato proprio recentemente nei tempi recenti non l'altro ieri patrono di tutta l'europa e a lui si è ispirato anche benedetto sedicesimo e il papa emerito deceduto appunto non molto tempo fa vediamo le previsioni del tempo un tempo prettamente estivo vediamo la grafica fotocopia rispetto alla giornata di ieri bel tempo con sole splendente per l'intera giornata non sono previste piogge la temperatura massima registrata sarà di 32 gradi ma quella percepita sembra che sia ancora superiore la minima a 26 gradi e quando poco tempo fa 26 era la massima veramente siamo ad alti valori della temperatura e l'alta pressione che arriva dall'africa si fa veramente sentire apriamo oggi il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo una buona notizia la diffonde l'onorevole antonio baldelli di fratelli d'italia agenti in arrivo al commissariato dice fratelli d'italia ma a questo punto ne parleremo dopo perché vediamo subito il collegamento con uno dei nostri amici si tratta di cristiano boni dei bagni azzurra bagni di torrette ciao ciao cristiano buona giornata buongiorno massimo ebbene la giornata tutti gli ascoltatori la tua concessione azzurra si intona benissimo con il cielo e il mare di oggi e anche con il colore dei i tuoi ombrelloni veramente è tutto azzurro anche anche i pattini vedo che hanno lo stesso colore è un colore ben augurante abbiamo abbiamo ricercato apposta quelle che sono le combinazioni dei colori veramente si ma i colori danno una certa suggestione perché poi fanno atmosfera fanno cornici e ambiente quindi è veramente una bella cosa senti poi il blu il blu è il colore della calma della pazienza quindi è vero quando venite qua state in pace c'è il rosso che è quello della passione c'è invece l'azzurro che è quello della tranquillità della pace è vero è vero senti di cosa parliamo stamattina c'è un problema che mi sta a cuore quello della valorizzazione di tutta la zona a sud del fiume metauro perché in questa zona dove si concentrano dove si concentra la maggior parte delle strutture turistiche è vero che vero la zona la zona di torrette io quando ero piccolo venivo giù con mio nonno addirittura pescare i cannelli quindi fa capire quanto è pulito il mare essendo lontano da dei fiumi quindi come dicevi poco perché si diciamo che la strada un po stretta avendo la ferrovia molto vicina abbiamo un po di problematiche con i parcheggi e noi bagnini ci siamo dovuti organizzare privatamente quindi quasi tutte le strutture da questa parte comunque abbiamo parcheggi privatizzati dove comunque cerchiamo di dare il massimo del servizio però è vero quello che stai dicendo a quindi la tua concessione è facilmente raggiungibile esiste un'area di sosta dove non c'è bisogno di girare all'infinito per trovare un posto macchina insomma bravissimo bravissimo 4 mila metri quadri di campo qui dietro quindi possiamo ospitare tutti benissimo senti oggi dunque una giornata assolata una giornata tranquilla il mare calmo sono come hai preannunciato prima questa settimana sarà veramente molto bella e molto calda hai detto 30 gradi ma già se ne percepiscono 7 della mattina anche qualcosina di più è vero quindi ci sarà un'invasione di bagnanti sulla battigia insomma in acqua me lo auguro e me lo spero perché visto che siamo quasi a metà luglio diciamo che l'estate è stato un po a rilento per tutti perché ovviamente per tutti sia per noi che le persone che vogliono andare al mare ma sì sì finalmente è arrivata l'estate questa mattina bandiera bianca sì 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 per adesso sì poi vediamo dopo ok benissimo cristiano ti ringraziamo di questa bella avvio di giornata ci fai pensare sempre alle vacanze tu quindi è bello parlare con te grazie 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 ci risentiamo domani ciao a tutti ciao va benissimo ciao massimo ciao a tutti arrivederci benissimo allora apriamo i giornali parliamo oggi con il resto del carlino è un colloquio che con la lettura si può veramente parlare con i giornali i giornali ci parlano noi reagiamo e reagiamo a questa bella notizia a gente in arrivo come vi ho preannunciato poco prima al commissariato di fano recentemente vi ricordiamo c'è stata quella dimostrazione organizzata dal siulpe che è il sindacato di polizia il quale interviene costantemente per sensibilizzare il governo affinché anche l'organico dei poliziotti del commissariato di fano sia veramente adeguato alle esigenze della terza città delle marche da tanto tempo l'organico è sotto organico cioè mancano i poliziotti e di questo ovviamente ne risente il controllo del territorio con dare bisogna dare grande merito comunque a tutti coloro che sono in servizio perché poi si fanno in quattro per cercare di fare di far pesare il meno possibile questa carenza nei confronti della cittadinanza e della sicurezza che è la cosa più importante ma parliamo di quanto comunicano i giornali questa mattina in merito alle dichiarazioni dell'onorevole Baldelli dice Baldelli il commissariato avrà un primo potenziamento di organico già nelle prossime settimane lo assicura dopo che è stato appunto posto in evidenza questo problema dal sindacato il governo ricorda Baldelli che è anche responsabile del dipartimento regionale per la sicurezza di forza di fratelli d'italia Baldelli dice che nei mesi scorsi aveva già assegnato alla nostra provincia 14 nuove unità tra agenti e vice sovrintendenti di polizia di cui 10 rimasti effettivi ebbene di questi 10 parte andranno a fare il loro servizio nel commissariato di Fano quindi ci sarà un incremento di organico speriamo che sia stabile e non sia solo per il periodo estivo sì periodo estivo ovviamente ha bisogno di una maggiore di maggiori controlli di maggiore presenza di poliziotti ma anche poi quello invernale insomma tutto l'anno Fano ha bisogno di un presidio importante in tema di sicurezza ed ora parliamo di politica parliamo di politica perché il partito democratico è alle prese con l'esigenza di eleggere il nuovo segretario appunto della sezione fanese e vediamo chi è in pole position lo vedete qui in questa fotografia è Renato Claudio Minardi per la segreteria del partito democratico c'è una assemblea che sarà convocata per è stata convocata per domenica prossima per eleggere appunto per concordare tra le diverse correnti che animano il partito il nuovo candidato ebbene tra questi oltre a Renato Claudio Minardi ci sono anche Dimitri Tinti che è l'attuale assessore al welfare di comunità e l'assessora Sara Cucchiarini che è l'assessora al bilancio dunque il partito democratico verso il nuovo segretario si consolida così in vista delle nuove elezioni amministrative delle 2024 il problema è cercare di conciliare di portare innanzitutto una unità all'interno di un partito al cui interno ci sono molte realtà vivaci che si contrastano quindi una certa intesa tra le due correnti principali che sono un po' l'anima di questo partito ed ora guardiamo anzi un articolo che è molto molto interessante pubblicato in apertura nella seconda pagina del resto del Carlino si parla di un albero genealogico ma veramente è un monumento di ricerca una ricerca che è stata compiuta da Roberto Piccioli Roberto Piccioli è un medico in pensione figlio di una famiglia che si è veramente distinta per il suo impegno per quanto riguarda l'assistenza verso gli altri ebbene è un grande lavoro, un imponente lavoro di ricerca documentaria che è stato fatto da questo medico in 40 anni di attività grazie a un imponente lavoro di ricerca partito quasi 40 anni fa da prima limitato a due paesini lontani tra di loro ovvero quello della valle del Cadore in provincia di Belluno che è la località di nascita della moglie di Roberto Piccioli a quella di Mondolfo dove appunto la famiglia di Piccioli ha operato sono due punti lontani però qui è cominciata la ricerca poi la ricerca si è stesa, si è stesa ha veramente coinvolto tantissime persone tant'è che ora abbiamo una cifra impressionante al momento l'albero genealogico realizzato da Roberto Piccioli conta 200.071 persone pensate che monumento così come l'ho chiamato costituisce questo grande lavoro ed è un lavoro interessante perché poi ogni famiglia ha il piacere di conoscere i propri avi, i propri ascendenti i bisnonni, i trisnonni, i quadrisnonni quelli che risalgono al 1500, 1600 e via dicendo e avere una famiglia di antico lignaggio fa un po' piacere a tutti ed è un bel articolo questo da leggere e poi eventualmente conoscere anche l'autore intanto però la popolazione fanese scende sotto i 60.000 abitanti è una ricerca che viene fatta annualmente viene fatta dalla relazione sulla performance del comune che pubblica i dati dell'anagrafe di tutto il comune una volta eravamo molto di più poi con la secessione di Marotta la popolazione è diminuita ma ora diminuisce ancora per quanto riguarda il calo delle nascite Miss Italia, Giordana sul podio la fanese Noemi Star di Torrette si è svolto a Torrette nell'ultimo fine settimana le selezioni svolte, le selezioni provinciali di Miss Italia il primo posto è stato conquistato da Giordana Giordana Tonucci una bella ragazza la vediamo qui in questa fotografia con la sua fascia di Miss il secondo posto è stato conquistato da Livia Zanardi di Monte Giorgio Miss Rocchetta Bellezza terza Elisa Alunni Casagrande di Ancona Miss Framesi quarta classificata Aurelia Chiarini di Gradara quinto posto per Isabella Ricci di Carpegna sesta Anna Chiara cercone di Grotta Zolina e fascia di Miss Torrette Promotion per la fanese Noemi Rinaldi che sarà la testimonial di tutti gli eventi estivi di Torrette quindi veramente una selezione di belle ragazze tutte ovviamente meritavano di vincere ed ora passiamo a Colli al Metauro telecamere che leggono le targhe sette in arrivo ecco la mappa è un investimento che l'amministrazione comunale ha fatto con 35 mila euro sono telecamere che sono in grado di rilevare alle forze dell'ordine il passaggio di veicoli rubati o quelli che sono privi di assicurazione o di revisione i sette posti dove saranno sistemate queste telecamere sono la rotatoria di Tavernelle lungo la Flaminia in via dei Pini sempre a Tavernelle a Calcinelli all'intersezione tra la Flaminia e via dei Laghi nella nuova rotatoria di Calcinelli all'ingresso della superstrada in direzione Roma e poi alla intersezione tra via Ponte Metauro e via del Progresso a Villanova all'incrocio tra via Ponte Metauro e via San Liberio e un'altra a Saltara tra via Matteotti e via Cavour quindi un controllo in più c'è stato un incidente che si è verificato ieri alla Valmex una delle imprese delle ditte più importanti del nostro territorio una scintilla in uno dei silos stava provocando un incendio per fortuna il rapido intervento dei vigili del fuoco è stato così l'esito per spegnere le fiamme e quindi non ci sono stati ulteriori problemi ma era una cosa che poteva destare peggiori effetti A Urbino c'è una dichiarazione di Pierluigi Ferraro che è un esponente del Movimento 5 Stelle in merito alla discarica di riceci Cosa dice Ferraro? Dice che non bastano più le proteste per ostacolare questo progetto nessuno vuole ormai la discarica di riceci in un posto così bello dal punto di vista ambientale come è stato quello localizzato non bastano le proteste non bastano le manifestazioni bisogna che la Regione la Regione Marche dica decisamente sì o no interpretando la legge e quando c'è la normativa di mezzo ecco questo è il modo per dire sì o no definitivo alla realizzazione di questo progetto e veniamo al premio Frontino uno dei premi più prestigiosi che si attribuiscono nel nostro territorio è stato attribuito al virologo al divulgatore scientifico Roberto Burioni per quanto riguarda la sezione personaggio ci sono anche altre sezioni vediamo che quella dell'ambiente è stata attribuita al Corpo Forestale dello Stato oggi Carabinieri Forestali e poi per la sperimentazione scolastica al Polo Scolastico 2 Torelli di Fano per la cultura del Montefeltro a Maria Bartolomeoli autrice di Alla Guerra non si può credere per la sezione umane diversità al giornalista e documentarista Giovanni Lani per la sezione letteratura alla scrittrice Silvia Balestra e infine come ho anticipato per la sezione personaggio al divulgatore scientifico Roberto Burioni insomma personaggi veramente meritevoli di attenzione e quindi di premio e veniamo a Cagli a Cagli sono iniziati i lavori per la palestra dell'istituto scolastico Celli il costo complessivo sarà di 2 milioni lo annuncia il sindaco Alessandri l'impianto sarà a disposizione per le società sportive nelle ore extrascolastiche quindi le necessità per la scuola al mattino e poi nel pomeriggio magari anche per le società sportive a Montefelcino torna il mercatino del feudatario una delle iniziative promozionali e anche di carattere commerciale più importanti del nostro territorio da stasera e ogni martedì fino all'8 agosto dalle 18 alle 24 il borgo di Montefelcino si animerà con tanti colori e oggetti che sembravano scomparsi lì ci si trova un po' di tutto è un mercatino molto curioso che poi così inserito in una cornice ambientale molto bella e questo fa sempre molto colore e molta suggestione vediamo anche qualche notizia che riguarda la provincia anzi diciamo un po' è un risvolto nazionale quello che viene pubblicato oggi dal resto del Carlino sulle pagine locali e si tratta dei funerali di Arnaldo Forlani pioggia di applausi per lo statista funerali che si sono svolti a Roma l'ultimo saluto al leader della democrazia cristiana uomo di pace, rigore e sobrietà Monsignor Paglia che ha appunto celebrato il rito ricorda la figura del politico affrontò la bufera di Tangentopoli con grande dignità ha ricordato la sua vocazione fu sempre quella di unire uscì dalla scena nel segno di un potere sempre discreto questo è un po' la sintesi dell'elogio che ha fatto il vescovo in merito a questo commiato però c'è anche una polemica c'è anche una polemica perché ai funerali di Arnaldo Forlani non c'era nessuno della giunta comunale di Pesaro il comune non c'era unico grande assente ai funerali di Forlani ed esplode la polemica i pesaresi presenti a Roma che rammaricano dicono nessun amministratore e l'opposizione ovviamente tuona una mancanza di rispetto inaccettabile non solo alla famiglia ma anche alle istituzioni perché ricordiamo che ieri in occasione dei funerali di Arnaldo Forlani il governo aveva proclamato il lutto nazionale ed era presente anche il presidente della Repubblica Mattarella è morta Anna Renzoni è morta Anna Renzoni Bezziccheri fondò Forza Italia in città aveva una vitalità incredibile si è spenta all'età di 82 anni lascia due figli Stefania e Giacomo ieri molti gli attestati di Cordoglio che sono giunti un po' da tutta Italia la famiglia era una donna che ha attraversato anche la vita sociale e sportiva pesarese domani i suoi funerali alle ore 11 è stata una delle attiviste politiche negli anni 90 quando appunto è sorta Forza Italia e quindi è stata veramente una delle animatrici di questo nuovo partito fondato da Berlusconi e poi vediamo anche un altro lutto addio ad Angelo Montebarocci ultimo ebreo di Pesaro aveva da poco compiuto 91 anni ieri mattina l'hanno trovato nel suo letto con la serenità di chi si addormenta dopo una vita piena intensa perché costellata di eventi drammatici dai quali però aveva saputo sempre risollevarsi ebbene una morte diciamo così nel dramma in cui è avvenuto sempre però molto bella perché serena priva di dolore e questo veramente è una cosa invidiabile e prima di abbandonare il resto del calino voglio segnalarvi questo articolo che riguarda un po' la classifica che il Sole 24 Ore ha fatto sul gradimento nazionale dei sindaci ebbene Ricci perde il 4,8% e scende al 54esimo posto ma io non ci credo dice lui stesso non brilla dunque il primo cittadino nella graduatoria del Sole 24 Ore resta comunque sopra il 50% con una tendenza però in calo invece io penso dice Ricci di non aver mai avuto un consenso così alto in città e vabbè comunque le considerazioni sono da una parte e dall'altra comunque il migliore della nostra regione è Marco Fioravanti sindaco di Ascoli secondo appunto in classifica e addirittura in crescita ebbene chiudiamo il resto del calino diamo un'occhiata invece rapidamente al Corriere Adriatico dove vediamo che l'apertura viene dedicata a un altro ritrovamento archeologico dopo quello effettuato in piazza Marcolini in centro storico questa volta siamo in periferia siamo in zona aeroporto qui è stato trovato un insegnamento addirittura preistorico un piano di calpestio di un'antica capanna dove sono state ritrovate selci cocci di uomini pensate di 4.000 anni fa e poi vediamo ancora un risvolto per l'accoglienza di Don Andrea di Monsignore Andrea Andreozzi Don Andrea è il colpo di fulmine il nuovo vescovo affascina la città e poi una bella iniziativa organizzata dall'ambito sociale numero 6 quello della cittadinanza attiva riservata ai ragazzi ragazzi che si impegnano a fare tanti lavori utili e hanno un piccolo compenso ad ogni partecipante un voucher da 50 euro mentre per i tutor uno da 100 i buoni sono spendibili nei negozi di abbigliamento librerie di elettronica sportivi e per il tempo libero quindi proprio il settore dei ragazzi e poi ancora vediamo la variante per quanto riguarda Montegiove dove dovrebbe sorgere il convento dei trappisti arriva in consiglio arriva in consiglio e determina ancora polemiche gli altri articoli pubblicati dal Corriere di Calcon un po' quelli che gli argomenti che abbiamo già presentato quindi siamo in dirittura d'arrivo e non facciamo altro che terminare la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come al solito a domani alle ore 7 vi auguro una buona giornata grazie per l'ascolto a risentirci a domani grazie per l'ascolto